presentiamo ora i campionati di pallavolo del mondo femminile le iscrizioni chiudono il 27 di settembre abbiamo previsto di pubblicare i calendari l'8 di ottobre per dare ufficialmente il via alla stagione sportiva da lunedì 11 ottobre 2021 partiamo col presentare il campionato più prestigioso della pallavolo femminile il campionato open femminile eccellenza è un campionato suddiviso in tre fasi ed è riservato ad atlete nate negli anni 2006 e precedenti sono previste al termine quattro retrocessioni in categoria open a 1 la prima fase vede 18 squadre partecipanti suddivise in due gironi da nove con gare di andata e ritorno previste quindi 18 giornate di gara termine della prima fase fissata al 13 marzo 2022 la seconda fase vede l'introduzione della champions cup vi accedono le prime quattro classificate dei due gironi di prima fase che vengono suddivise in successivi due gironi inizio previsto al 28 marzo e termine al 29 maggio la vincente della champions cup si aggiudica il titolo di campione provinciale di categoria ed accede alle fasi regionali dopo una gara di finale tra le prime due classificate dei rispettivi gironi le altre squadre mantengono il diritto di partecipazione al campionato categoria eccellenza la seconda fase vede anche i play out che interessano la settima e l'ottava classificata che disputeranno un incontro per mantenere la categoria il play out non si disputerà se tra queste due squadre è presente un distacco in classifica superiore a tre punti per mantenere la categoria la squadra con la peggior posizione in classifica quindi l'ottava classificata dovrà ottenere una vittoria da tre punti e quindi con risultato conseguito sul campo di 3 a 0 o al massimo di 3 a 1 l'ultima squadra classificata di ciascun girone la nona retrocede direttamente in categoria open a 1 è previsto anche per il campionato open femminile eccellenza l'accesso al torneo primaverile ed è dedicato a tutte quelle squadre che non accedono alla champions cup inizio fissato in data 28 marzo e termine entro giugno 2022 passando alla categoria inferiore categoria open a 1 anche questo campionato è suddiviso in tre fasi ed è dedicato e riservato ad atletenate negli anni 2006 e precedenti sono previste al termine quattro promozioni in eccellenza e sei retrocessioni in categoria open a 1 la prima fase vede 18 squadre partecipanti al via suddivise anch'esse in due gironi da nove con gare di andata e ritorno per un totale di 18 giornate di gioco termine del campionato di prima fase 13 marzo 2022 la seconda fase prevede la champions cup le prime classificate dei due gironi conquistano la promozione diretta in eccellenza e la possibilità di aggiudicarsi il titolo di campione di categoria con una gara di finale in campo neutro la seconda fase playoff partita singola disputata sul campo della squadra con la miglior posizione in classifica seguendo lo schema prospettato per determinare le ulteriori due promozioni previste alla categoria open eccellenza i play out invece interessano la sesta e la settima classificata di ciascun girone per mantenere la categoria il play out non si disputa se tra queste due squadre è presente un distacco in classifica superiore a tre punti per mantenere la categoria la squadra con la peggior posizione in classifica la settima classificata dovrà ottenere una vittoria da tre punti e quindi con un risultato conseguito sul campo di 3 a 0 oppure di 3 a 1 le ultime due squadre classificate di ciascun girone l'ottava e la nona retrocedono direttamente in categoria open a 2 è previsto anche in questo campionato l'introduzione del torneo primaverile è un'attività dedicata a tutte le squadre con inizio fissato al 28 marzo e termine sempre entro giugno 2022 il terzo campionato open di pallavolo femminile è quello del riservato alla categoria a 2 anch'esso diviso in tre fasi è riservato da tre tenate negli anni 2006 e precedenti sono previste sei promozioni in categoria open a 1 i gironi verranno composti da mediamente 10 squadre con gare di andate e ritorno per un totale di 18 giornate la prima fase terminerà il 13 marzo 2022 la seconda fase è quella che decreterà il campione di categoria le prime squadre classificate di ciascun girone verranno promosse in open a 1 e vi sarà la possibilità di aggiudicarsi il titolo di campione di categoria pallavolo femminile a 2 con una formula finale da definirsi sulla base del numero effettivo di squadre iscritte a questo campionato verrà introdotta anche la coppa playoff come attività di seconda fase la formula verrà definita sulla base sempre dell'effettivo numero di squadre iscritte la categoria open a 2 al fine di valorizzare il numero di promozioni previste e ricordiamo che in questa categoria le promozioni previste sono un totale di sei i playoff interesseranno indicativamente le seconde le terze e le quarte classificate nel caso le miglior quinte dei vari gironi al termine è sempre prevista la possibilità di partecipare al torneo primaverile che è dedicato a tutte quelle squadre che non accederanno alla coppa playoff inizio fissato al 28 marzo 2022 con termine entro giugno del medesimo anno presentiamo ora il format dei campionati di tutte le altre categorie di pallavolo femminile che nello specifico sono categoria top junior per atlete nate dal 2000 al 2008 categoria under 19 2003 2007 juniors 2004 2008 under 17 2005 2009 allieve 2006 2010 under 15 2007 2010 ragazze 2008 2011 under 13 per atlete nate dal 2009 al 2012 con possibilità di schierare tre atleti di sesso maschile di cui solo due contemporaneamente in campo su linee differenti under 12 atlete nate dal 2010 al 2013 con possibilità di schierare tre atleti di sesso maschile di cui solo due in campo su linee differenti under 11 nate dal 2011 al 2014 con possibilità di schierare due atleti di sesso maschile e under 10 atlete nate dal 2012 al 2015 con possibilità di schierare squadre miste o prettamente femminili o prettamente maschili o proprio come detto miste con atleti maschi e femmine in campo contemporaneamente l'attività di queste categorie si suddivide in tre fasi una prima fase che prevede l'introduzione di gironi composti mediamente da 10 squadre con formula gare di andata e ritorno per un totale di 18 giornate di gioco il termine è fissato al 13 marzo 2022 con l'inizio delle successive fasi finali fasi finali che vedono l'introduzione della coppa plus che è una manifestazione indetta in luogo delle finali provinciali a cui accedono le migliori squadre di prima fase è prevista un'iscrizione dedicata con una formula definita in base all'effettivo numero di squadre iscritte al campionato di prima fase la vincente della coppa plus ottiene il titolo di campione provinciale di pallavolo categoria del csi milano con accesso alle successive fasi regionali e nazionali laddove previste la coppa plus non è prevista per le categorie under 12 under 10 e per queste due specifiche categorie verranno organizzate finali dedicate è previsto il torneo primaverile dedicato a tutte le squadre che non accedono alla coppa plus con inizio in data 2 aprile 2022 e termine entro giugno 2022 e anche per la pallavolo oltre al campionato abbiamo pensato di riprogrammare quelle esperienze sportive residenziali di qualità organizzate proprio per regalare a tante ragazze la possibilità di vivere un'esperienza che lega la sana competizione sportiva abbinando ad un'esperienza forte di vita di gruppo e di vita comunitaria sono previsti quattro appuntamenti dall'8 al 10 aprile a salso maggiore terme per le categorie under 11 e under 12 dal 23 al 25 aprile a ravenna per le categorie under 15 allieve dal 29 al primo maggio a ravenna per le categorie juniors e top junior e dal 13 al 15 maggio sempre a salso maggiore terme per le categorie under 13 e ragazze insomma tante proposte per il mondo della pallavolo femminile che regaleranno tanto entusiasmo tanto divertimento alle ragazze che si iscriveranno e partecipano ai campionati promossi dal csi milano grazie a tutti grazie a tutti